Informazione e conoscenza. Sono questi i presupposti su cui si fonda il programma di obiettivi raccontati dal presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallodidiano e Alburni, Tommaso Pellegrino. Per il 2019, spiega il presidente, l'ente parco continuerà a percorrere la strada del coinvolgimento e dell'istruzione dei giovani, perché per amare il proprio territorio è necessario conoscerlo. A questo poi si aggiungerà la battaglia, iniziata già nel 2018, per tutelare l'ambiente, che guarda, in particolare, all'utilizzo sconsiderato della plastica e ai rifiuti RAE. In 2019 punteremo ancora di più sulle scuole, perché è lì la grande scommessa, è lì la grande forza, infatti proprio in questi giorni stiamo lavorando ad un piano che coinvolge i nostri istituti scolastici. vogliamo implementare la conoscenza del territorio nelle scuole, metteremo in campo iniziative che vanno non soltanto per la riduzione dell'utilizzo della plastica, ma anche i RAE, i rifiuti elettronici che rappresentano un'altra grande criticità, pneumatici, tanti sono pneumatici abbandonati lungo i nostri corsi d'acqua, anche quella è una criticità e con Ecopneus, che è il consorzio nazionale di pneumatici. Noi abbiamo messo in campo una serie di iniziative e a breve segleremo un protocollo per cercare proprio di mettere in campo azioni virtuose in questo settore, perché noi, lo voglio ricordare, siamo ancora tra i territori dove i comuni fanno un grande lavoro sulla raccolta differenziata, non a caso siamo tra i territori con la maggiore percentuale di raccolta differenziata. E questo ci fa piacere, perché significa che c'è una gestione virtuosa del tema legato ai rifiuti. Ecco, diciamo che veramente sono tante le iniziative che vedranno la promozione del nostro territorio, che vedranno appunto, come dicevo prima, finalmente anche sui social e il web un restyling del web e dei social, un'attività di promozione del territorio del parco. Diciamo che le iniziative in cantiere sono tanti, ma tutte in itinere e quindi tutte ci auguriamo che vedranno a breve nel 2019 appunto la loro piena e assoluta realizzazione.